Incapace di porre un freno ai suoi appetiti sessuali, a quell'insana passione per un adolescente, una donna incentrata sul proprio ego nel totale dispregio degli interessi di un giovanetto, una donna che non ha speso una parola per riconoscere il male, ha recato al ragazzo. È uno dei passaggi delle 70 pagine con le quali il giudice Daniela Migliorati spiega i motivi che lo scorso primo giugno hanno portato alla condanna a sei anni e mezzo della donna, oggi 32enne, che nell'estate del 2018 ha dato alla luce il figlio nato dalla relazione con un allora studente di terza media a cui dava ripetizioni di inglese. La donna, difesa dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, finì ai domiciliari all'inizio del 2019. A mettere in moto l'inchiesta affidata ai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli fu la denuncia presentata in questura dalla mamma del ragazzino assistita nel processo dall'avvocato Roberta Roviello. Una denuncia ancorata nel giro di poche ore all'esame del DNA sul neonato. Una vicenda che ha trascinato nelle aule di giustizia anche il marito dell'imputata, condannato a un anno e otto mesi per essersi assunto la paternità. Una scelta consapevole di fronte a una verità conosciuta, come ha ricostruito l'inchiesta. Dichiarare il falso, parole del giudice, comporta sottrarre indebitamente a un bambino il suo patrimonio genetico, culturale e affettivo. Le 70 pagine ripercorrono tutta la storia tra la donna e il minore, che il giudice chiama giovanetto, mutuando il termine da una letteratura vecchia, ma considerandolo efficace per delineare la figura di un adolescente da qualche tempo prima dei 14 anni a qualche tempo dopo. Dell'imputata emerge un profilo psicologico caratterizzato, si legge, da un ego assolutamente preponderante che non ha indotto ad alcun tipo di ravvedimento. Si parla di una donna capace di intendere e volere, come ha concluso la perizia psichiatrica, che ha esibito il suo bambino come un trofeo e l'ha usato come potente arma di convincimento sul giovane amante per evitare che si sottraesse al loro rapporto. A dimostrazione di ciò i messaggi intercorsi tra i due e poi, quanto detto dallo studente, quanto ricostruito dagli investigatori attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni, le minacce di rivelare a tutti la vera paternità del bimbo se la relazione fosse finita. Nella sentenza si fa riferimento all'assoluta mancanza di parole di scuse dell'imputata allo studente, il cui danno psicologico, si legge, può essere serio e irreversibile e compromettere le relazioni affettive del futuro uomo.